Sì, ci siamo andati vicini, ma come sempre manca qualcosa, ma sinceramente non so cosa manca, perché alla fine la squadra ci prova sempre, lotta, sempre palla su palla, ma il risultato non arriva mai. Domani abbiamo l'ultima partita, speriamo in bene, speriamo in una vittoria. Il primo torneo mio è una bellissima esperienza, spero di continuare sempre nella nazionale, mi diverto, poi la squadra si è formato un ottimo gruppo di amici prima di tutto e poi di giocatori.